Ok andiamo a aprire ragazzo, dobbiamo fare il party perché ovviamente Albe non l'avrà affatto o l'ha fatto E invece Albe ragazzi si dimostra per quello che è, comunque non riesco a condividere, non la riesci a condividere Manco hai chiuso e riaperto pure Twitch, cioè Twitch la stream, cioè proprio chiusa la stream, riaperta e dà la chat e non ti dice condivisione, che strano Come vi dà la squadretta? Vabbè simpatica, simpatica 13 pacchettini eh, mazza quanta roba c'hai, bello, bello, belli sti pacchettini ciotti Vai 100k Ciotti i pacchetti Tocca mettere su un poco di ciccio qua eh Occhio Occhio Ah, meglio di niente Ah regà, mo c'hai, mo tu c'hai il ciotto bro eh, mo c'hai il ciotto, vediamo se la madonna ce la vuole manda bene, Ilarione Oppure se dobbiamo bestemmiare, questi purtroppo te li devo scartare poi al massimo te li recuperi Allora, apriamo prima il 1583 più Bro che culo, che culo brodero Eh, eh ciotto, dai va bene, solitissimo, De Bru in Frimpong, da onesto Daccene uno di quelli novizi, daccene la variante quella bella, daccene la variante solida No eh Eccoci qua Ovviamente dopo De Bru in mica si può esultare più de tanto Te becchi Ter Stegen bro Maah, ecco questo qua Ma, è meglio quello di prima bro, era meglio il 1583 del 2584 Vabbè, io questi qui frate te li lascio qui così almeno poi in caso te li gestisci come vuoi Te ringrazio per i premi, De Bru in abbiamo trovato per me, big win, no? Gear drop sotto un treno Apri tutto? Vado C'è pure i pick Oh Uno dei tre fu Champions Tots Cioè è già la quella attuale? Apriamo prima questo Mmh, sono aldone? Sono aldone? Che sta roba? Che sta roba? È uno dei tre icone Porco Dio Chi vuoi? Mi sa che ti tocca via Bear Camp per il raiding, tanto fanno tutte cagare Tocca via papà Eh, abbiamo papà, anche perché l'altro è bro, cioè Giocatore Tots Mamma mia Oh, avete visto che Cocu War ben figa bro? Allora, icona Prime Toddy Football dei Trophy Titans 90 più bro Mamma mia Mamma, grazie caro Dressing Go Porco, ma quanta roba c'è oh? Oh, so quattro Ah no, so tre il pick Vabbè, 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 vabbè Vediamo i pick Vabbè, opiamo Dressing Go, frate, non gliene frega un cazzo, bro Non gliene frega un cazzo Bro, questi sono i primi pick Tots Ultimate Con un 20-0 del signor Dressing Go O 19-1, perché a lui non gliene frega un cazzo, è un Chad Lui vuole solo i premi Vabbè, ho da Mendy, manco male Pronti? Pronti? Vai Dressing Go Mannala Primo pick Ah Beh, è un inizio KDB Secondo pick È garantito Benzema De Bruyne è garantito, bro Benzema Ultimo E goloso Pick Oh Porco Giuda, oh Che pick so, oh Vabbè, salà Chi vuoi Dressing Go? Eh, salà, dai Tiè De Bruyne, salà Benzema Posso fare un calcolo monetario? Ho tipo 5 milioni 5 milioni e più De De pick Buono E qui abbiamo ancora comunque il Trettoz Ultimate Trettoz Ultimate, regà che Qual è la roba peggiore che possiamo trovare dal Trettoz Eccolo, lui È la cosa peggiore che possiamo trovare dal Trettoz Ultimate 5 giocatori 84 più La variant di Ter Stegen 3 Ultimate Tots Il momento della verità Grazie, Dressing Go, come sempre, caro Boia Dei, il tuo napoletano livornese sono Peppe Ah, è vero, il mio napoletano livornese, bro Occhio Occhio Occhio, qui che cos'è che abbiamo? Cos'è questo? Un undici? È un undici? Azz Possiamo vedere anche l'undici come droppa, regà Il classico undici Pronti a vedere Mbappé? Siete pronti? 3 2 1 Primo Cazzo che schifo Te prego Ti prego Dici vabbè Eh, però, boh, regà Cioè, che cazzo è il difensore Bro, cioè, arrivati a sto punto sono belli gli attaccanti Costa, Teo, eh Cioè, Teo costa, eh Teo Hernandez Team of the Season 800k Comunque, poco non è Però È nata così, brother È nata così Vabbè, undici, dai L'hai giocata col cazzo appoggiato Hai tirato dritto Dai, ci sta Una icona Su tre 90 più Prime Immortodi O foot birthday Guarda, te dirò Non costa tanto arrivati a sto punto del gioco Però, onestamente, poteva andare un po' peggio Cioè, almeno uno onesto c'era, almeno Allora, vai 15 giocatori 83 più La bandiera umana No, no No Ma io potevo aprire prima il tozzo Perché almeno non te dovevo scartare Oh, aspetta Oi No, Mertens Vabbè Vabbè, 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 vabbè No, non va bene No, no, non va bene Non va bene Grazie, caccio Apri tutto, scarta i doppioni Riproviamo i pick Vai 34 picchetti Bang Mamma mia, ragazzi Mamma mia, ragazzi Pacchetto giocatori tozze serie A Fammi vedere Ui, Di Maria, bello Ammazza, così ho preso Poteva essere pure Tomori Vabbè, Di Maria onesto, dai Bruma, è possibile trovare Portogallo Alla sinistra Ma basta, Giomari È l'unico che c'è Il modoppione Fammi vedere che è qua Tre giocatori 84 Levalo Sì Mi sono cacato addosso Se ne erano da Mendy Era Messi Riccardo Horta Oh, quanti tozze però, eh 2,86 Ce ne avevo un bel po' Apri il 7,84 No, Giomari Tu madre è una troia, bro 5,80 No, no Portogallo Porco Dio Che palle Apri l'ultimo 5,85 Ragazzi, c'è Gioao Mario E Riccardo Horta Sono state Ufficialmente Dichiarate Nuove malattie Dai medici mondiali Bro No, no, no Non si può eliminare, bro Non si può eliminare Ci abbiamo ancora Speranza, bro Ci abbiamo ancora Speranza, bro Trust Gioao Matic Maggiore Guli Lo sai che manca male? Cioè Poteva andare meglio Grazie caro Oh, cazzo Ragazzi Ho premi da Weekend League Questi Dupic È un altro 11, bro È un altro Goloso 11 Vai Speriamo Speriamo Ter Stegron Ter Stegron Dai, per favore, bro Un attaccante Per favore Ah, stai a quittare Tutta la VL Quanto ha fatto? 5 11, no? Un bell'11 solido, no? Vai Oh 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 De Broin Non so chi sceglie Dammi un minuto Come non sai chi sceglie Poi, bro Ma se sei matto Ma via De Bruin Eh, sei scemo Bravo che hai preso De Bruin, brother Vai Ragazzi De Bruin Quaraschelia Porco due Che picchetti The next day A me sto giocatore De Toz Bro Oh Carino Ma mi sa che già ce l'ho, bro Oh Bono 51 Ah, bro 51% Squadra della stagione E qua non c'è percentuale, bro Ma ush Ma ush Facciamo qua 23% Puzza Vai apri il pacco da mezzo mio Nebro Trust Oh Amo Amo Vai, pronti Primo pick Per Stegen Secondo pick Abbiamo Diago Terzo picchetto Antonio Il crossatore Quarto pick Allison Molto carino Dai, dacce tipo Leao, bro Leao Mi va bene, bro Devandowski o Teo? No, rega, io più Teo Mi dispiace Non mi fido del gioco Non mi fido del gioco, ragazzi Io prendo Teo Teo Eccolo Rafa Leao Si gode Che bello Rafa Leao Porco Giuda Rafa Leao Mbappé Oh Carino Griezmann Nel 3-Tots Ultimate Bro C'è Statterstegron Vai Pronti Pim Senza Shakerada Porco Dio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada